Partiti All'inizio della prima curva, in vantaggio, Care Jam Summit, davanti a Serbar, effetto speciale, Grison, Luxury Baby e Miss Gabriella. All'inizio della prima curva, in vantaggio, Care Jam Summit, davanti a Serbar, effetto speciale, Luxury Baby, Miss Gabriella e Grison. Dopo il salto della riviera, prosegue in vantaggio, Care Jam Summit, davanti a Serbar, effetto speciale, Luxury Baby, Miss Gabriella e Grison. All'inizio della seconda curva, conduce Care Jam Summit, davanti a Serbar, effetto speciale, Luxury Baby, Miss Gabriella e Grison. All'inizio della diagonale, discendente, sempre in vantaggio, Care Jam Summit, davanti a Serbar, effetto speciale, Luxury Baby, Miss Gabriella e Grison. Dopo il salto dell'Oxer, è sempre in vantaggio, Care Jam Summit, davanti a Serbar, effetto speciale, Luxury Baby, Grison e Miss Gabriella. Al termine della penultima curva, prosegue in vantaggio, Care Jam Summit, davanti a Serbar, effetto speciale, Luxury Baby, Grison e Miss Gabriella. Dopo il salto del muro, conduce Care Jam Summit, davanti a Serbar, effetto speciale, dopo il salto del muro, conduce Care Jam Summit, davanti a Serbar, effetto speciale, Luxury Baby, Grison e Miss Gabriella. All'inizio dell'ultima curva, in vantaggio, Care Jam Summit, davanti a Serbar, effetto speciale, Luxury Baby, Grison e Miss Gabriella. Poco prima dell'ingresso, in vantaggio, conduce Care Jam Summit, davanti a Serbar, effetto speciale, Luxury Baby e Grison. E' in vantaggio, Care Jam Summit, davanti a Serbar, effetto speciale, effetto speciale, Luxury Baby. Cara Jam Summit, un altro sigillo per Simone Pugnotti. Cara Jam Summit, Johnson in sella, il numero tre, porta a casa una delle ultimissime corse in ostacoli della riunione invernale di Capanelle. Sconfigge il duo di Favero, Serbare, effetto speciale, un po' sottotono, forse aveva bisogno proprio della pioggia. Grison, e vi lasciamo con queste immagini, da adesso in poi, per tutto il poveriggio, sette corse, tutte in piano. Grazie. Grazie. Grazie.